Musica Io prendo subito quello che ha detto la dottoressa Giannini sul fatto. Allora io avevo preparato delle slide per dire quanto è pericoloso lavorare in sanità ma probabilmente l'avete già detto che dall'8 al 38% degli operatori sanatari ha subito una forma di violenza fisica nella sua carriera. Non solo, mi interessa dire che questi sono i dati INAIL, quindi sono dati sottostimati ma nel quinquennio, vi dico solo l'ultima frase, 2016-2020, 12.000 casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall'INEL. L'INEL stessa dice che questa è una sottostima di almeno del 50%, vuol dire una media di 2.500, dicono loro, che vuol dire 5.000. Non so se abbiamo idea, io l'ho messo, poi le aree dove accadono lo sappiamo, vado avanti. Tutti i lavori sanitari sono pericolosi? Questa è una domanda che mi sono fatta proprio leggendo le chat e soprattutto perché mi sembrava interessante che questa cosa, come giustamente è stata ben detta dalla dottoressa Paola Landi, ha fatto un movimento in Italia che non riguarda solo i psichiatri, che non riguarda solo i medici, che ha riguardato finalmente i nostri pazienti per primi. Io ho avuto attestazioni di dispiacere, proprio degli utenti rispetto a quello che era successo, quando andavo col fiocchetto, quando dicevo perché. E in tutto il mondo, come dire, abbiamo visto sui giornali quello che è successo, come giustamente dicevi, la cosa non si è fermata. E questa è secondo me un'occasione veramente importante. Tutti i lavori sanitari sono pericolosi? No, in realtà i lavori più pericolosi, lo sappiamo, sono in alcune aree particolari. E sono in primis l'emergenza, l'avete detto stamattina, i dipartimenti di salute mentale e chiaramente dove ci sono delle situazioni di emergenza. E la cosa che qui, io ve la lascio la depositiva, queste sono le relazioni fatte dall'osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti e delle professioni sanitarie ed è la relazione dell'anno 2022, in cui dice chiaramente dove avvengono le cose e soprattutto che la maggioranza delle volte il professionista aggredito è una donna e che la maggior parte delle volte l'aggressore è un uomo e che questo uomo aveva già avuto dei comportamenti pregressi violenti. Quindi queste sono cose che si sanno, però non c'è nessuna prevenzione. Allora, provocatoriamente io ho detto, ma è pericoloso lavorare con i matti o siamo matti a lavorare in psichiatria? Perché a un certo punto leggendo le chat ti viene questo dubbio, no? Cioè io ormai faccio questo lavoro da tanti anni e mi sono chiesta questo. E la risposta è anche qui, sempre dal lavoro tratto dal ministero, no? Che ci dice che cosa, che sicuramente la maggior parte degli studi è il tempo di attesa dell'erogazione delle prestazioni, che è il principale fattore determinante dell'episodio di aggressione, nei pronti soccorsi è quello che succede, nel medico di base è quello che succede. Un po' meno forse nei nostri ambulatori dove i tempi di attesa per fortuna non sono così lunghi. Poi, le aspettative irrealistiche da parte dei pazienti e chi gliele ha messe in testa le aspettative irrealistiche? Mi chiedo io. Scarsa conoscenza da parte dei pazienti e dei loro familiari del sistema sanitario e dei servizi. Noi non abbiamo mai spiegato, non spieghiamo bene cosa possiamo dare. Scarsa comunicazione tra i pazienti e gli erogatori delle prestazioni. Il problema della comunicazione è un problema importantissimo. La mancanza di competenze nelle comunicazioni tra gli erogatori delle prestazioni. Abbiamo fatto un sacco di corsi per spiegare la front office e come devono fare le cose, ma poi i nostri pazienti ci vengono a dire che il telefono gli è stato sbattuto giù, che la persona l'ha fatta aspettare ore. Cioè, ma basta metterci dall'altra parte, quanti di noi hanno avuto un'esperienza positiva o negativa quando hanno prenotato un esame telefonico? Per quanto mi riguarda, con il call center del Veneto è una tragedia. Una revisione sistematica dice anche che la salute psicologica del paziente, ansia, reazioni acute da stress, intossicazione alcolica, quello che si è detto, sono tutti predittori. Cosa voglio dire io? Che noi sappiamo quali sono i predittori. Scusa, dottoressa, devo dire che abbiamo solo un'ora per il simposio successivo, poi ci chiudono, mi spiega moltissimo. Sì, chiudo, chiudo. Allora, a questo punto vado avanti e dico solo questo. Chi è che ci tutela? Secondo me è importante soprattutto per i giovani. Guardate che molte persone non sanno che c'è stato un decreto legge il 30 marzo del 2023 che ha inesprito le pene e abbiamo fatto un incontro il 6 di novembre in cui c'era il magistrato, in cui c'era qui anche il dottor Castagnoli che ci ha spiegato insomma come funziona. Però io penso che sia importante, a prescindere dalla natura, dalla gravità del danno che è occorso, che l'operatore vittima di violenza faccia la segnalazione dell'evento al suo responsabile. Questo è fondamentale che noi lo passiamo come cultura di servizio. La legge non basta però perché quello che è successo il 24 aprile, il 23-24 è stato chiaro, cioè si doveva fare qualcosa. A quel punto dopo la manifestazione del 3 maggio, il 15 maggio, un gruppo di colleghi, insieme a me ce ne erano altri, io rappresento questo gruppo, il 15 maggio ha detto sentite possiamo trovarci via Zoom, chi vuole partecipare perché 4.000 persone che è sì, la chat era importante e ci siamo trovati in un centinaio, io sono rimasta anche stupita perché la convocazione è stata fatta due giorni prima e in questo centinaio all'inizio è stato consolarci, confortarci, dirci che eravamo vivi ma soprattutto dire che dovevamo fare qualcosa. A quel punto si è fatto un secondo incontro, poi è arrivata l'estate, ma ci si è dati un compito e cioè quelli di fare una staffetta con gli ordini dei medici, il primo a partire il 31 maggio è stato Firenze che è stato straordinario come presenza, io l'ho seguito via Zoom, poi a seguire Cosenza, poi Roma, poi Bologna, parlavo prima con le colleghe, il 14 all'ordine dei medici di Vicenza, il 6 di novembre abbiamo organizzato un incontro sempre nel nome, portando avanti, ecco la proposta, dalla protesta come si può arrivare a un coordinamento. La pericolosità non è una questione solo della psichiatria, attenzione, noi dobbiamo, assolutamente un'occasione unica che abbiamo di, e oggi, stamattina è stato visto con i medici dell'urgenza, di essere medici tra i medici perché se non lo fa, perché spesso siamo stati noi ad arroccarci su delle posizioni, quindi non solo a sentirci soli ma resteremo soli se perdiamo questa occasione. Allora la proposta del coordinamento toscano l'ha descritto la collega, io vi dico cosa è stato fatto nell'ordine dei medici di Vicenza a luglio del 2023. Il Presidente, una persona molto attiva, sulla luce di quello che stava succedendo, Commissione per la Sicurezza. Cosa fa questa Commissione? Il monitoraggio degli episodi di aggressione al personale, la verifica delle misure di prevenzione messe in atto nei luoghi di lavoro del territorio e la promozione delle buone pratiche e la formazione di operatori. Quello che io dico è che ognuno di noi deve diventare un professionista sanitario attivo, che sia medico, che sia infermiere, parlavo prima fuori con alcuni, che sia educatore, dobbiamo essere noi, non possiamo pensare sempre che sia qualcun altro che fa le cose per noi. e chiudo però con una cosa, scusate no ma questa la devo dire perché sono le parole dell'Alice, la figlia della Barbara Capovani che mi ha autorizzato a leggervele e io vi chiedo un minuto perché credo che ce ne andiamo a casa un po' più sollevati. Lei ha scritto questo, Mia mamma era azione, era concretezza, mia mamma avrebbe voluto che trovassi qualche modo per aiutare me stessa, la mia famiglia e tutti quelli che l'hanno persa e sentono la sua mancanza a trovare la forza per affrontare questa tragedia ed in qualche modo provare ad andare avanti, anche se solo un passettino alla volta. Mia mamma è un eroe, come tutti gli eroi, lei ha già i superpoteri, lei è nata così, ha regalato un pezzettino dei suoi superpoteri ad ogni persona che abbia mai aiutato, l'unico modo per poter avere sempre con noi, averla sempre con noi è continuare a trasmettere quello che ci ha insegnato e continuare a dare quello che ci ha dato. Saremo lei ogni volta che aiutiamo qualcuno, ogni volta che lotteremo per noi stessi.